Facciamo un confronto tra elezioni europee e elezioni regionali. Ci sono anomalie, differenze rispetto al comportamento degli elettori? Insomma, il comportamento degli elettori era prevedibile che fosse analogo quello delle europee rispetto a quello delle regionali. È interessante perché a lungo si è discusso e c'è stato molto dibattito su come avrebbe potuto in qualche modo differenziare il comportamento un ipotetico elettore se avesse pensato al candidato per le regionali, all'uno piuttosto che all'altro. Attualmente era ampiamente prevedibile, come in letteratura ormai è noto, insomma, gli studi ci sono, che dimostrano come tendenzialmente l'elettore semplifica il suo comportamento, semplifica il suo rapporto con la complessità della politica, quindi era prevedibile immaginare che si sarebbe comportato per le regionali nello stesso modo con cui ha votato per le europee.